festa dell'unità a modena settembre 2019 quelli della montagna foto regia mixer di walter giusti signore e signori buona visione è uno specifico dell'uomo entriamo abbiamo il parcheggio appoggiamento dove ce n'hai un posto? a me ne basta uno siamo arrivati ora ci va in postazione i tavoli sono pronti? dove vai? o villaggio giardino qui c'è la birra qui c'è la signora che prepara noi siamo arrivati ci abbiamo messo un casino tra delle incidenti una balla e l'altra ci abbiamo messo quasi due ore a venire giù le prime file le prime persone le prime persone le prime persone la tua risata è difficile accionare il folletto no? no no ecco ci fai anche un uomo lo può fare perché io c'era uno in casa ma non mi riusciva alla fine mi cercava da con lo straccio e ora la prossima volta prendo quello moderno perché mi era vecchio vi ringrazio molto, buon lavoro è arrivata a casa caro e indimenticabile Maria, non fossi davvero esistita non costa di amare e amore pinta, perché persino per la morte l'eccellenza del soffrire, la violenza più litigata e di così più alta, di così distancata qui tutti a mangiare grazie 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 ando i twoi cambio a nessuno, ha fatto una foto di fotografia? si, non parlare questa è finita, si torna tutti a casa, è quasi finita questa non è mai finita, non è mai finita, specialmente ora, cioè qualcuno li rode e pensavo di mandare tanto, ma le hanno fatto un bel servizio, vai, così impara la festa è finita, ora siamo alla ripulitura si prepara tutto per domani sera, signore e signori, con queste belle mani del personale che sta ripulendo tutto, Gusti Walter vi saluta da Modena signore e signori, arrivederci al prossimo anno ciao a tutti ci fermiamo a bere prima di andare via ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti io vado a letto se sapessi davvero capire la sua esistenza buona ganara l'avrei capito esaltamente la realtà la paura, la tensione, la violenza l'avrei capito, il capitale, la borghesia ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria la libertà, Maria la rivoluzione ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria l'avrei capito l'avrei capito la barra Grazie a tutti.